oh buongiorno visto che fra poco andremo a vedere questo vedette teatro di fiorentini farò una lezione sul teatro la farò su internet in modo che voi abbiate la possibilità di vederla e quindi prendere appunti anche dagli appunti e quindi di rivedervi questi appunti no di rivedere questo video io vi dirò delle cose poi magari lascerò delle parole chiave ma alcune cose le diremo o parliamo di teatro che cos'è il teatro che sembra una domanda di quelle più proprio stupide che cos'è il teatro è un posto scala vero e recito che cavolo c'è bisogno sì però che cos'è il teatro direbbe so che ti esti o teatrono che cos'è sto teatro perché tanti poveri non hanno avuto teatro non hanno sentito il bisogno fisico di creare dei luoghi dove rappresentare esistono vari teatri nel giro per il mondo c'è il teatro noi in Giappone eccetera però il teatro come noi lo pensiamo è una creazione greca e neanche poi tanto greca c'è il teatro sì gli spettatori ma il teatro così come come è stato poi creato è atenese è un qualcosa di atenese il teatro questa roba qui questa forma qui è atenese o e che cos'è il teatro all'inizio il teatro è un tempio è il tempo di dire il tempio di dioviso è vicino al tempio c'è uno spazio di terra dove si celebravano alcune cerimonie religiose che poi col passare del tempo diventa uno spettacolo di terra. Ora su questa parte della religione io ho letto molte interpretazioni ovviamente i filologi latini classici tendono un po' a sorvolare quando Nietzsche scrisse alla scena tragedia fu ignorato perché pose dei problemi che hanno piuttosto anche qui ho letto ultimamente ho detto sì ma che ci frega che ci importa ma che ci frega che ci importa se è nato il teatro dice ma l'origine non è importante poi diceva come dice aristotele l'importante è il teatro nell'età classica sì però è importante sapere perché a un certo punto delle persone si sono messe col sedere per terra guarda altre persone mascherate se non ci fosse stato sto primo impulso tutta la perfezione che è avvenuta dopo e non ci sarebbe stato non è una cosa così banale il problema che non abbiamo testimonianze perché le prime tragedie compiute che abbiamo sono del quarto secolo del quinto secolo avanti Cristo ma il teatro è ovvio che è una pratica di poi ho preso anche degli appunti che non mi ricordo e ovviamente nel quinto secolo abbiamo le prime tragedie che non sono rimaste sarebbe il quattrocento sempre nel quattrocentosessantasette eschi lo porta in scena una quadrilogia con laia ed iposetta non è non è la stessa di stesso tema di soffro ma è una cosa diversa e il primo agone tragico viene posto nel 534 avanti Cristo cioè la prima cioè l'agone tragico che cos'è il primo concorso teatrale sia la data precisa nel 534 nell'olimpiade al 534 al 531 il primo agone gara comica nel 486 avanti Cristo però cosa è successo prima di arrivare a questo e prima ancora faccio presente che noi abbiamo pochissime tragedie sopravvissute considerate che ogni anno come minimo ne venivano sfornate almeno 369 all'anno 9 tragedie che venivano conservate negli archivi pubblici e dobbiamo pensare centinaia di strategie tutta questa tutta questa massa di roba noi abbiamo 7 di escro 7 di soffro e mi sembra una ventina 21 di olipide se non lo ricordo ma riguardo sì mi sembra una ventina perché alcune perché noi abbiamo queste 7 7 7 7 sembra strano sembra un numero non casuale non casuale infatti perché al tempo di Adriano venne fatta un'antologia per le scuole un'antologia vostra dove si riunirono si riunirono 7 tragedie rappresentative quelle che venivano considerate più rappresentative degli autori più importanti quindi se ne preso 7 di escro 7 di soffro e 7 di oripide poi di oripide se ne sono aggiunte altre della tradizione bizantina se ne riesco ad arrivare alla fine di questa cosa c'è scritto dopo la fine traduzione ecco selezione e traduzione dei testi di oripide ce ne sono circa 3 antologie allora 7 di oripide e 18 tragedie è un dramma satiresco quindi sono 18 sbagliato 18 di oripide più un dramma satiresco che è l'unico dramma satiresco conservato quindi su una produzione di centinaia e centinaia e centinaia di Roma noi abbiamo 7 tragedie di escro e oripide come il mio ognuno di loro ne avrà composto un centinaio come il mio quindi 7 di escro 7 di soffro perché nell'età di antice dell'età di Adriano se ne fece un'antologia se non ci fosse stata questa antologia forse oggi avremmo qualche tragedia ed oripide per la tradizione bizantina ma non avremmo neanche un verso di soffrole o di escro che sono i più importanti tragedie di oripide quindi in realtà parlando della nascita del teatro si va un po' per congetture cioè noi abbiamo lo spazio scenico che è quello che obiettivamente abbiamo lo spazio scenico quello spazio lì che è nel teatro di Epidauro a Siracusa e anche ad Atene eccetera eccetera però già quello spazio ci dice alcune cose chi dice per esempio perché il teatro antico non è uguale al teatro moderno il teatro antico è democratico il teatro antico nasce per un concorso pubblico statale non c'è un principe che sponsorizza lo Stato stesso la democrazia che sponsorizza questi giochi dovete pensare un po' al palo di serie ma all'inizio questo inizio è un problema perché appunto prima di sapere tutto questo prima di sapere del 534 che è il primo agone e solo nel quinto secolo quindi nel quattrocento la seconda metà del quattrocento credo si deciderà di costruire il teatro di pietra perché a un certo punto che succede crollò il teatro di legno quindi insomma perché tutta questa gente si ammassava su delle gradinate di legno poi a un certo punto crollò e si diceva forse è meglio farlo di pietra ma stavo cercando il tempo sotto un tragediorfo che si chiamava pratina di cui non abbiamo niente o pratina non mi ricordo dove va l'accento ma è un tragediorfo che ha scritto anche lui il sacco di Roma di cui non abbiamo niente il primo tragediorfo di cui si sa che ha scritto tragedie è Tespi di cui non abbiamo niente poi c'era un altro che si chiama Pericheglio di cui non abbiamo niente Tespi è colui che introduce il primo attore e tutto questo ci porta a un sacco di problemi perché noi abbiamo in realtà poi quello che ci parla più di tutto del teatro è poi la struttura architettonica che è quella comunque però all'inizio cioè se noi guardiamo questa struttura architettonica è strana ma non tanto perché è all'aperto e ha forma semicircolare diciamo che in Grecia fa caldo e ceppo sta abbiamo questo palcoscenico dell'orchestra tondo circolare all'inizio circolare poi diventerà semicircolare poi staccato c'è il palcoscenico vero e proprio il proscenico dove sta l'attore e dietro c'è la scena con una sorta di piccolo edificio con delle decorazioni che mimano il palazzo da Ravenno né un figlio di Morse è una situazione un po' strana perché se noi prendiamo il teatro moderno c'è il palcoscenico dove stanno gli attori sia che sia il coro del Nabucco che gli attori non è che metto gli attori in un palcoscenico e il coro in un'altra e certo se è un'opera lirica c'è l'orchestra che sta sotto e infatti quella è un po' si capisce bene che è un po' l'origine dell'orchestra che è quella che noi chiamiamo oggi orchestra e dove ci stanno nell'opera lirica quelli che suonano gli strumenti e che accompagnano accompagnano la recitazione delle opere liriche ma nell'antica Grecia questa orchestra erano degli attori che cantavano che suonavano qualche differetto o qualcosa ma erano parte dello spettacolo quindi è un po' strana questa cosa però se noi ci andiamo passo passo la stranezza si... vediamo la ricostruzione del teatro allora quindi abbiamo l'orchestra tonda dietro c'è uno spazio poi c'è il proscenio una pedana dove stava l'attore o i tre attori a un certo punto diventano tre dietro c'è un edificio che è la scena dove c'è Mimà con delle pitture che rappresentavano in maniera abbastanza tradizionaria così impassante il reggio d'Agamennone o Troia o quello che volete voi e dove andavano poi a cambiarsi gli attori ovviamente avevano le maschere o gli attori protagonista protagonista vuol dire il primo protos agonistess cioè colui che si oppone al coro perché all'inizio in un'epoca di cui noi non sappiamo molto ma ne abbiamo qualche cosa semplicemente durante le feste di Dioniso c'è uno spazio tondo così dove entrava il coro dal parodo due ingressi cioè dalla parte entrava e dalla parte usciva e entrava il coro danzando maschera danzando si andava e cominciava a girare intorno all'altare di Dioniso e strofa strofè e cantava e cantava le strofa strofa vuol dire giro strofa vuol dire giro nel senso perché si dice perché mentre giravano cantava perché girava perché essendo lo spazio tondo gli spettatori si erano messi tutti in cerco intorno quindi il coro girava intorno per modo che per un piano lo vedessero tutti questo andò bene fino a che Tespi che è uno dei primi etracidove introduce il primo attore il primo attore dove lo mettiamo è nell'orchestra sta lì ma poi vedo c'è quelli che se mi mettono davanti c'è uno dietro non me vede allora anche l'attore dovrebbe stare a fare anche nel giro capite tutta sta gente che si gira intorno più o po' vanno a sbatte allora viene creata la scena e il proscenio quindi viene creata una pedale un po' più alta tanto che narra la leggenda che Tespi all'inizio non era proprio da te da te ma girasse i paesini del Latte col suo carro di Tespi il carro di Tespi ancora oggi vuol dire che vuol dire perché gli attori un tempo si spostavano di posto in posto e con il loro carretto le loro quattro carabatto questo lo chiamiamo in un gesto teatrale eccetera eccetera quindi quando nasce l'attore l'attore lo deve mettere in un posto più alto e l'attore è mascherato in una maniera più solenne del coro il coro è guidato di sotto da un corifeo il corifeo è colui che a volte quando il coro dialoga con l'attore non è che parlano tutti insieme c'è un portavoce del coro che il corifeo il coro canta capite che tra il teatro moderno e quello antico c'è l'opera lirica nell'opera lirica moderna la Ida Verdi eccetera c'è sotto l'orchestra sta sotto il palcoscenico e suonano lì sotto quello dell'orchestra ma non partecipa in nessun modo a quello che succede sopra è praticamente staccato immaginate una scena moderna che entrano tutti gli orchestrai danzando gli si portano il violoncello il contrabbasso e danza capite che uno col pianoforte addirittura sopporto no anche perché è cambiata la musica la musica è cambiata eccetera gli strumenti quindi il coro dobbiamo immaginarsi al limite qualcuno che sarà arrivato con dei flauti eccetera ma con qualche abbiamo delle pitture pompeiane con dei tamburelli eccetera eccetera perché è un onore di Dio quindi l'orchestra c'è ancora nell'opera lirica ma certamente l'orchestra sta sotto e semplicemente suona cioè l'orchestra sta lì e suona e basta il coro invece è partecipe della scena tragica tipo il coro nelle diporee il coro sono i vecchi tebani che parlano che diporee dicono qualcuno ha ammazzato l'aglio e discutono non tanto il coro quanto il corifeo allora detto questo poi a un certo punto Eschilo porterà a due attori e Soffle a tre attori il coro da 12 a 15 però tre attori non vuol dire tre personaggi vuol dire che all'inizio un attore siccome si cambiava la maschera poteva entrare e uscire dentro e un singolo attore poteva sostenere più parti normalmente un attore solo più di tanto non faceva quindi Eschilo ne aggiunse un altro e Soffole ne aggiunse un altro ancora e siamo arrivati a tre ma questo è grecarum letterarum istoria perché sapete i manuali di lettatore greca sono in latino si dà per scontato come il latino non c'abbia bisogno di un latino si legge a occhio così questo è di un Antonio Delia che era un prete che ha scritto una storia del teatro greco della letteratura greca in latino però è fatta bene lui è intitolato Caput Primus Carmina Scenica e ovviamente dice su peggiù le cose l'ho detto io meglio è più meglio anche se non si deve dire è più meglio allora nel mese di annuario c'erano nel mese di cennaro c'erano le lenee Primovere in primavera Primovere e Primavera di Florania poi Magna Dionisia Dionisia scusate Dionisia e e qui c'erano le grandi tutto questo quindi sotto sotto vabbè a un certo punto si creano delle strutture in legno poi a un certo punto le strutture in legno sono insufficienti perché a teatro ci devono andare tutti gli atelesi perché è una specie di festa religiosa è una festa anzi sarebbe più simile alla messa o al palio cosa un po' strana quindi il tentativo che fece nel rinascimento di resuscitare il teatro greco non poteva funzionare prima di tutto perché nel tardo rinascimento c'erano già i principi e non c'era la democrazia il teatro è democratico perché stiamo tutti a sedere su sì vabbè il sacerdote di ogni social il seggiolone e le autorità stavano anch'esse nella prima fila però in realtà il teatro parte dall'idea che siamo tutti uguali davanti al teatro i teatri principesti anche nei teatri seicenteschi settecenteschi c'è il palco d'onore per il re e il popolo sta in piccionaia sotto insomma di sotto in piccionaia i posti sono ben più differenziati le classi sociali del teatro modello sono ben più differenziate del teatro greco ma poi il teatro greco essendo una festa si cioè le grandi dionisie si facevano per tre giorni all'anno quattro e poi diventeranno tre giorni durante la guerra del popolo quindi a teatro ci andavi solo tre giorni all'anno e basta e ci andavi solo nelle grandi dionisie non ci potevano andare qua diciamo oggi sono lì le botte no non ci potevano andare qua non ti pareva perché ovviamente 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 ogni giorno questi signori ateniesi si guardavano tre sei nove nove tragedie a un dramma satilesco no scusate tre tragedie a un dramma satilesco al giorno quindi quattro otto dodici in tre giorni si faceva una scorpacciata di nove tragedie e tre drammi satileschi che erano dalle nove di mattina alle sei di sera siamo in primavera le giornate si allungano per questo non c'è il teatro all'aperto perché tanto è tre giorni all'anno in primavera si allimita se piove si mette un telone ma di solito ad Atene a caldo si può fare anche all'aperto il problema se facessi il teatro all'aperto se vai al teatro di dicembre hai bisogno di un luogo chiuso che può sembrare una stupidaggine ma questo cambia tutto ad Atene al teatro c'è andato tre giorni all'anno tre o quattro giorni all'anno e basta perché non c'è una cerimona la risorsa a un certo punto infatti da perito in poi lo spettatore siccome perdeva tre giorni lavorativi buoni vedeva pagato cioè dall'opolo che doveva offrire lui e l'aprile dice no questo perde tre giorni per stare al teatro e non li paghiamo quindi è addirittura un obbligo quasi morale andare al teatro un po' come un tempo andrà a messa se non andrà a messa perché non si andrà a messa perché il teatro è un'istituzione democratica il teatro quindi è qualcosa che non ha un gran chiaro a che fare con quello che noi pensiamo al teatro è una festa di paese immaginate se voi andate al teatro questi cittadini che tutti contenti che c'erano tre giorni di festa a volte pagati a un certo punto e quindi si ammassano per tre giorni stanno lì seduti e si guardano tre tragedie al giorno è bella roba la tragedia è anche pesante perché nel lagamendo c'è gente che mangia i propri figli che uccide che uccide il padre che Oreste uccide la madre è tutta roba bella tosta però si divertivano quindi immaginate questi ognuno aveva il suo posto il suo posticino però ovviamente ci sarà stacera che faceva il furbo che tentava di andare di qui che tentava di andare là poi tre giorni a fila poi deve andare in bagno immaginate i bagni dell'età di pedi come era andava nei campi a boschetto e aveva qualche migliaia di persone a un certo punto e poi dovevano mangiare qualcuno si sarà anche abbioccato la tragedia di Sodeschio secondo me dopo il terzo stasi qualcuno si è abbioccato eccetera eccetera quindi ma era una festa popolare una festa una festa che ovviamente aveva un valore assolutamente cittadino che non aveva nulla a che fare con il teatro moderno e naturalmente non avevano a che fare col teatro moderno cioè il teatro moderno tu ci va quando ti pare e mentre il teatro greco non ci va quando ti pare ci va semplicemente tre giorni delle grandi dianisie detto questo detto questo dovrebbe andare avanti per giornate e qui poi la farò finita abbastanza velocemente detto questo anche la struttura dello spettacolo è diversa all'inizio il teatro inizia con l'ingresso prima entra il coro che si chiama il parodo entra il coro entra il coro danzando su nell'orchestra si piazza lì anzi no ancora prima c'è un prologo scusate un prologo dove due attori o qualcuno introduce arriva sulla scena sulla scena sulla parte rialzata magari o è un dio che introduce l'argomento oppure due attori che dialogano tra di loro e comunque fanno capire di che si parla detto questo entra il coro cantando entra il coro proprio cantando e danzando e si pone intorno all'altare di Dioniso capite che è tutto un po' diverso cioè dovremmo immaginare qualcosa che con la nostra che con la nostra e con la nostra drammaturgia ha ben poco a che fare quindi e poi alla fine diciamo quelli che noi chiamiamo atti di solito sono cinque atti quelli che ha codificato razia ma in realtà all'inizio erano tre e quattro insomma tra un atto e l'altro c'era il canto del coro cioè il primo canto del coro era danzato poi finiva un dialogo a volte tra il coro e gli attori o tra gli attori stessi e alla fine di questo c'era un canto del coro all'inizio il canto del coro aveva un qualche legame con l'azione poi più si va e più il canto del coro è una sorta di così di momento di relax o credere anche parlando del fatto che queste tragedie e questi spettacoli vanno visti come il palio di siena cioè erano dei concorsi statali cioè io non è che scrivo la tragedia e poi la faccio di città no l'arconte stabiliva gli arconti che hanno i sommi capi dello stato atenese sceglievano tre tragediografi quelli più importanti e come il palio di siena e questi questi tragediografi gli assegnavano per estrazione assorte un coro ovviamente senza coro degli attori e ovviamente tutto quello che serviva per mettere su il teatro e tutto questo veniva pagato da un corego cioè un cittadino atenese che per fare un po' bella figura di solito se si voleva anche fare carriera politica insomma ci si dava si finanziava questa cosa che era di autorità pubblica quindi questo che pagava tutto di solito era di qualche tribù se faceva vincere la sua tribù la sua territoria atenese era diviso in tribù o come le contrade di siena il palio ricorda molto la struttura delle contrade di siena la stessa cosa se ci pensate cioè il palio di siena si corre due volte all'anno e basta il teatro greco si si faceva solo tre o quattro giorni all'anno le grandi tragedie poi le commedio in un altro periodo ma le tragedie avevano rappresentate solo tre o tre o quattro giorni all'anno e basta e queste tragedie venivano sponsorizzate allo Stato con degli sponsor privati però che pagavano tutto e avevano la riconoscenza ovviamente la citazione del tempo di Diodi sulla corona eccetera eccetera magari un piccolo una piccola statuetta qualcosa di simile un ex voto e quindi però vincere se la propria insomma compagnia teatrale vinceva gli agoni tragici era una cosa fondamentale è ovvio che c'era anche una giuria i tre poeti prescelti ci scegliavano tre attori e un corego cioè un corego cioè l'attore cioè una volta ogni si andava tutto per sorteggio negli atenei si andava tutto per sorteggio quindi a Sofro gli toccava questo corego questi attori e questa cosa e quindi per sorteggio di modo che non si potesse barare poi c'era una giuria che ovviamente stabiliva di dieci circa giurati cittadini che stabilivano il vincitore e pensate che ognuna di queste tragedie veniva rappresentata una sola volta cioè l'anno dopo non si rappresentava le dico re ma c'era un nuovo concorso con nuove tragedie tutte queste tragedie venivano conservate in un archivio di stato questo archivio di stato conservava tutte queste tragedie che erano centinaia e centinaia di cui noi ne abbiamo pochissime quello che con cui vorrei chiudere è che ovviamente il teatro greco in se stesso è qualcosa che dal nostro punto di vista è qualcosa che quando nel rinascimento tentarono di resuscitarlo era impossibile perché a parte di Odiso e tutta la regione greca ma tutto ma anche a Firenze dove lo si poteva andare a Fiesole ecco se il teatro c'era ma immaginate i fiorentini travestiti è qualcosa di simile e fece un anzio magnifico il trionfo di Bacca e Arianna ma nel rinascimento c'è questa ossessione di di resuscitare l'antico ma l'antico è definitivamente morto cioè quello che il teatro greco era per i greci per noi anche se all'origine perché l'idea è anche di attori professionisti cioè con Atene nasce l'attore professionista cioè l'attore infatti tra i premi che c'erano nella giuria finale c'era il premio per miglior scrittore il corego che vinceva ma anche il premio per miglior attore quindi gli Atenesi inventano tutta sta roba qui l'attore il fatto che uno interprete eccetera eccetera ma tutto questo poi si è sviluppato nel corso dei secoli in una maniera tale che tra l'origine è come un bambino e un vecchio sì sono la stessa cosa ma sono geneticamente molto diverse quindi la struttura del teatro greco anche fisica che poi è quella che ci dice più di tutto cioè questione dalle fonti ma già questa struttura fisica fisica ci dice qualcosa che non può essere replicata l'orchestra dove c'è il coro non c'è l'orchestra con il suonatore c'è il coro che partecipa anzi all'inizio sono solo i tuoi giuri i tuoi minuti venivano mascherati da sileni che erano seguaci di Dioniso cioè metà cavalli non come c'è con orecchie di cavallo e coda di cavallo e anche nudi insomma in bella vista anzi perché erano sapete come potete sapere nelle feste delle Dionisie si celebrava la rinascita di Dioniso ma si celebrava la rinascita di Dioniso partendo da una parte del corpo di Dioniso che oggi se uno la facesse vedere in giro lo arrestano subito ma per loro era sacra perché quella parte del corpo era sacra era una parte del corpo sacra perché per loro rappresentava la primavera quindi anche le feste in Giappone c'è una festa simile ma questa è un'altra storia quindi ravvestiti così che danzavano e magari danzando e ballando entravano nell'orchestra che c'entra cioè immaginate uno vestito da cavallo con l'orecchio di cavallo con la coda dietro di cavallo che zampetta così immaginate l'orchestra di nuti che insomma il violino è tutta un'altra cosa ma è ovviamente che è tutta un'altra cosa ma sarà San Diego che è tutta un'altra cosa ed è difficile sarebbe difficile convincere l'orchestra di Vienna a entrare nell'orchestra tutti che danzano le zampette come facevano gli antichi greci e non era neanche possibile il rinascimento solentino quindi la cosa si remaschera e si ritorna tutto eccetera però è ovvio che non si poteva fare va bene questo è quanto quello che dovete ricordarvi è la distinzione nel teatro greco in orchestra prosceni scena parodo parodo entrano il coro qui c'è l'altare di Dioniso questo è il teatro il teatro si chiama così perché si vede la differenza fondamentale che Aristotele fece la distinzione che può sembrare banale ma il teatro è ciò che si vede e l'epica è ciò che si sente che si immagina perché nel teatro appunto io perdo la mia persona e ho quasi una possessione diabolica o tipo avete voi mi metto una maschera in cui non sono agamè non ne sono qui tenestra sono chi vuole ah perché i ruoli femminini facevano dopo quindi io ho cercato di essere piuttosto conciso 130 minuti teatro greco ci vogliono tutti perché anzi ce ne vorrebbero da staci delle giornate però credo di avervi dato alcuni concetti fondamentali per cui il teatro greco non poteva essere resuscitato il teatro greco era una festa si faceva tre giorni all'anno e chiudeva bottega e nessuno si sognava ad agosto diceva voglio fare no il teatro greco è come il palio di Siena quello fa il 2 giugno 2 giugno 6 giugno non mi ricordo sto restando sienese sto 2 giugno no il 2 giugno la festa della festa il 6 giugno a giugno a luglio insomma sempre per la festa della Madonna c'è sempre la Madonna e lo fai quel giorno lì non lo puoi fare si può fare a volte un palio straordinario ma oggi vogliamo fare il palio a dicembre non si può fare quindi la stessa cosa è in piazza del campo perché si fa il palio d'estate perché d'estate c'è il sole quindi non c'è bisogno se piove la vita è stata tutta una giornata lì sotto l'acqua a guardare i cavalli che corrono non era bello e non era bello neanche per il palio per il caso detto questo detto tutto non ho detto niente non ho detto niente non ho detto neanche la millesima parte quello che vorrei dire per alcune curiosità protagonista per il greco Protos a quelli stessi perché il primo a un certo punto Tespi dice ma se mettessimo un attore che sto coro che parla solo lui che è duscato il protagonista è del protagonista gli attori venivano chiamati ipocrite ipocrita perché chi è l'ipocrita colui ti mette una maschera quindi perché l'attore si mette la maschera ed è un ipocrita perché deve far finta che si chiama ipocrita oggi deve avere questo il corifeo era colui che guidava perché quando il coro dialogava con l'attore non è che poteva parlare in dodici allora dice parla te che sei il corifeo e parlava a nome del coro va bene ho dato alcune notizie e con questo passo e chi grazie a tutti